Questa che vedete sopra di me è la nuova corazzata italiana che verrà rilasciata in futuro, la Ruggero di Lauria. Attualmente non si sa con quale risorsa si potrà acquistare, punti ricerca, carbone, acciaglio, non ve lo so ancora dire. Secondo me verrà rilasciata ad acciaglio. Ora andiamo un attimo ad analizzare questa nave, vi leggo le sue caratteristiche e poi voi vi farete un'idea appunto su questa corazzata. Avremo una vita di 79.200, leggo lì ecco perché non guardo la telecamera, 79.200 punti sono relativamente pochi rispetto ad altre corazzate di livello 10. Avremo una protezione siluro del 39% per quanto riguarda la corazza I-32 mm e staremo armati con dei cannoni da 457. Esattamente questi cannoni che vedete qui, questo lo vedi? Questo è un cannone da 457, questo è un cannone da 457 e poi stanno gli altri dietro insomma. 457 che potranno sparare esattamente dei proiettili AP con un danno di 14.900 punti oppure le SAP, non è uno scherzo è tutto vero, SAP che faranno un danno di 16.600 e potranno penetrare 114 mm. La gittata massima per quanto riguarda questi cannoni sarà di 19.2 km e la ricarica in 30 secondi, gittata sempre contenuta come del resto tutte le italiane, con Sansonetti con una kill potrete stendere questa gittata e poi con l'aereo spottino ma ci arrivo a breve. Per quanto poi riguarda le cariche di profondità per distruggere i sommergibili arriveranno fino a 11 km e avranno un danno di 4.900 punti, tempo di ricarica 30 secondi. Armamento secondario composto da cannoni con calibro di 135 che spareranno SAP, distanza base 7.3 km, danno SAP 3050 danni in totale. Per quanto poi riguarda la difesa contraere abbiamo un valore di 4.6 km, ora non entro nel merito per quanto riguarda la distanza corta, media e lunga dei proiettili sparati dall'armamento antiaereo, altrimenti non ne veniamo fuori, però arriviamo fino a 4.6 km. Per quanto riguarda la velocità massima è stimata in 35 nodi, quindi abbastanza rapida, sarà abbastanza pesante da girare come nave e partirà con una mimetizzazione base dall'acqua di 15.2 km base. Per quanto riguarda poi rilevabilità aerea 12.5 km, rilevabilità una volta che sparerete con i cannoni all'interno di un fumo, ve la dico, 16.7 km. Purtroppo non avremo la possibilità di portare con noi il consumabile fumo, quindi niente fumo per quanto riguarda questa nave, mi dispiace, lo so, lo volevo anche io. Per quanto riguarda invece quello che abbiamo a disposizione sarà il classico controllo di riparazione, avremo la possibilità poi di recuperare vita molto efficace e questo consumabile perché potrà recuperare fino al 33.3% i rani subiti da cittadella, quindi particolarmente efficace e poi potremo scegliere tra l'aereo fighter e l'aereo da spotting. Questo attualmente è quello che sappiamo della futura nave italiana che verrà rilasciata, corazzata italiana di livello 10. Cos'altro dobbiamo dire? Torniamo un attimo forse nel porto per fare un po' di comparazioni. Ovviamente non avendo mai giocato una nave che ancora deve essere rilasciata, io posso solo immaginare quello che potrà essere una volta appunto che potrò utilizzarla molto brevemente. Il fatto di non avere il generatore di fumo sulla nuova corazzata italiana è una cosa molto, in qualche modo, che ci deve far riflettere e ci deve far posizionare nella maniera più corretta possibile in mappa. Tramite la nostra elevata velocità, che tra l'altro potrà essere aumentata da 35 nodi con bandierina Seramaic più il 5%, saremo una corazzata molto molto veloce. Unita a una bassa rilevabilità, potremo tirare delle sberle con i 457 non indifferenti. Problema, se dobbiamo fare però una virata sarà molto pesante, non avremo possibilità di copertura tramite il generatore di fumo e quindi la cittadella, bene in vista, sarà una preda molto facile delle corazzate avversarie. Motivo per cui appunto la rigenerazione e il recupero vita è aumentato dal danno subito da cittadella. Di più, i 4.6 km di antiaerea della futura corazzata ovviamente vanno a riprendere la difesa dell'antiaerea italiana. Molto potente sì, ma a corto medio raggio. A 4.6 km ormai la squadriglia avversaria ha già attaccato e voi avete già subito il danno. Quindi sì, potete fare un danno magari prima che scappano gli aerei, però in definitiva farete molta fatica. Per quanto riguarda invece la gittata massima della corazzata non sono molto preoccupato perché le italiane si comportano molto bene pur avendo una gittata molto contenuta. Proprio perché non è che sono dei cecchini, prediligono un gioco sul corto medio raggio per massimizzare il danno. Che a questo punto con i 457 sarà ancora più devastante. Per quanto riguarda la protezione siluro è molto interessante. Il 39% base vi garantirà ovviamente di resistere alla maggior parte dei siluri lanciati non solo dai cacciatori pelinieri nemici ma anche dai sommergibili avversari. Basti pensare non so al thrusher che è quello inglese ha un danno relativamente molto basso quindi il 39% riuscirà ad assorbire maggiormente il danno. Cos'altro dobbiamo dire? Sulla cittadella ne abbiamo parlato, i punti vita sono relativamente molto pochi quindi dobbiamo giocare la nave veramente con molta attenzione. E sulla mimetizzazione generalizzata della nave sia aria che appunto superficie di mare anche lì ritengo che siamo messi abbastanza bene. Quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. La cosa che è più difficile sarà il posizionamento della nave. Risulta fondamentale quando andrete a virare. Secondo me solo lì potrà subire dei danni concreti da parte degli avversari. Però come ho detto anche prima è una nave che può subire molti danni se non l'ho detto prima lo dico adesso. Ma allo stesso tempo con i 457 farete davvero malissimo a tutte le navi presenti all'interno del gioco. Poi io mi limito qui in questa piccola analisi perché ripeto non avendola giocata non potendo mettere le mani avanti fino a un certo punto. Poi una volta che l'avrò giocata eccetera eccetera faremo il gameplay e la vedremo nel concreto. Ora tocca a voi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Video è terminato io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. No come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay o con un prossimo video analisi. Ciao!